Quanta Persia sai? Quante cose sai davvero dell'Iran, della Persia, dei persiani, della lingua persiana, della cucina persiana, della storia persiana? Proviamo a scoprirlo. Giochiamo appunto al quiz. Quanta Persia sai? Dieci domande, venti secondi per ogni risposta, quattro possibilità di risposta. Si gioca con l'hub di Kavut, che puoi scaricare nel link, oppure anche direttamente dal sito, anche con un codice che vi darò durante la diretta. È un modo diverso, una cosa nuova per stare insieme nelle nostre dirette e anche qualcosa che anticipa altre attività che faremo prossimamente. Ci sono tante cose in ballo, ci sono altri tipi di dirette, altri tipi di lezioni, ci sono gli NFT che arrivano, oppure noi facciamo gli NFT, bene sì, poi spiegheremo anche a chi non lo sa di cosa si tratta. Seguireci, state con noi, iscrivetevi al canale e magari abbonatevi, perché è il modo migliore per non perdersi assolutamente nulla di quello che facciamo. Vi aspetto allora a Quanta Persia sai. Ciao! 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 Ciao!